E' un appassionato appello per la solidarietà ai profughi, è venuto domenica scorsa dalla Marcia della Pace Perugia a Sisi, Padrenzo, quali iniziative sono nate da questa marcia? E' stata una marcia doppiamente francescana, perché richiamava sia il valore della pace sia il valore della fraternità e poi con il Presidente della Federazione della Stampa, Giulietti, noi abbiamo messo davanti alla sala Stama, davanti al Stavo Convento, due tavoli con un appello molto forte contro il linguaggio razzista, contro il linguaggio violento, sia nei mezzi stessi di informazione, ma anche nella cultura stessa, nel web, insomma dappertutto. E' una proposta che sta avendo un grande successo, perché credo che in fondo l'italiano, sa essere ed è, direi, un uomo che accoglie. E' l'Italia, come si dice nei momenti drammatici, del meglio di sé.